ciao ragazzi sono mario il coach allora questa mattina mi trovavo a parlare con un allievo ancora una volta ovviamente si parlava dei risultati ma è uscito fuori un bel punto che effettivamente a me piace molto sottolineare che uno di quei punti che l'allievo non percepisce facilmente perché l'allievo si concentra maggiormente sui risultati estetici effettivamente va bene anche questo perché si lavorano effettivamente per arrivare a questo risultato ma il risultato che gli facevo notare questa mattina è che effettivamente lei ha raggiunto un risultato più che altro mentale cioè l'aspetto mentale cioè quell'aspetto che poi ti porta in palestra quindi un aspetto positivo correggere gli errori anche quelli alimentari ovviamente settare la giornata per far sì che tutto poi arrivi a portarti in palestra nonostante le difficoltà che potremmo parlare qui per delle ore i motivi e le difficoltà per cui non si viene in palestra lì la mia soddisfazione maggiore è quello di lavorare su come farti arrivare in palestra perché una volta che sei in palestra il corpo i risultati li ottiene qualsiasi cosa si possa fare con il corpo o con il fisico se preferisci quindi ragazzi ancora una volta cercate di lavorare più sul comportamento sull'atteggiamento sul pensare un po più positivo quindi quell'aspetto mentale che ti mette poi in condizione di ottenere il massimo risultato cioè quello di venire in palestra perché io prima che tu non arrivi in palestra non so cosa fare ma quando arrivi in palestra so che cosa fare ok quindi allenati bene alla prossima ciao